Veramente la prima festa che in qualche modo organizzo, ma in realtà è stata organizzata da Paride Vitale E qua vi vorrei ringraziare tutti quanti, ma soprattutto grazie perché veramente questa sera vi ho guardato tutti quanti e il mio cuore è qui e sono esattamente dove voglio essere Non mi sa E sono felice Grazie E adesso vorrei ringraziare anche l'artista di zucchero Marco Chiurazzo Bravo Marco Che ha rotto i coglioni a tutti per questa torte, io ti ringrazio moltissimo Sette volte al giorno Sette volte al giorno mi ricordano, io ho spacciato numeri di telefono per non essere chiamata e whatsappata da te Però forse ne valeva la pena, non lo so, adesso lo scopriremo Ho già la porta, mi basta Adesso è grossa così per la torta Devo mettere il microfono, la torta sarà grande così sia È un tegolino